Obulani Ahmed, vincitore della categoria 56 kg per il terzo anno di fila a contene regionale. Esatto, l'unica differenza è che quest'anno ho cambiato categoria di peso, non ho fatto il 52 kg ma ho fatto il 56 kg. Abbiamo voluto assistere a un match molto duro, quelli che ho ricevuto sono stati molto duri. Assolutamente, ma anche quelli dati hanno portato in difficoltà. Una vittoria molto vissuta, l'emozione alla fine è stata un po' bella. Hai regalato un po' di emozioni a tutti, sono la faccio col tuo allenatore. Assolutamente, è stata una commozione di entrambi, è stata veramente bella. Un periodo difficile per arrivare a questa vittoria. Sì, è stato un periodo difficile perché sono reggisata degli infortuni, ho avuto purtroppo un incidente mentre andavo al lavoro, quindi sono stato fermo per un lungo periodo e nonostante tutte le difficoltà, comunque grazie al supporto dell'allenatore e della mia famiglia, sono riuscito a rientrare e diciamo che quando ci sono gli eventi importanti non ci piace mancare, infatti si parte per Roma, diciamo. Grazie al tuo maestro e come hai detto anche alla tua famiglia e ai tuoi amici che sono qua. Che sono qua a far me il tipo, assolutamente, assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi. E vi porto il lupo per ripenare. Assolutamente, grazie. Grazie. Grazie.